Preliminarmente naturali ringraziamenti per tutti coloro che hanno voluto accettare questo nostro invito sia da parte della stampa, sia da parte del personale politico viterbese grazie veramente anche perché credo che sia un'occasione importante per fare chiarezza su tutta una serie di profili su cui si è molto malinteso e molto equivocato negli ultimi mesi, negli ultimi giorni e a risalire forse anche negli ultimi anni Allora, rapidamente sull'ordine dei nostri lavori, non voglio tenervi qui moltissimo avete visto, a tutti è stato distribuito una breve nota di sintesi che è un documento di appena due fogli su una pagina che riassume i profili e le questioni chiave di tutto il contenzioso la cronologia degli eventi, i numeri del contenzioso cioè quanti giudizi, quanti soldi spesi, quanti interessi, quante sanzioni un passaggio che mi è parso necessario accennare viste ancora una volta le polemiche degli ultimi giorni sulle proposte transattive intercorse e poi un passaggio finale un po' più tecnico ma forse necessario sulle ragioni o sulle presunte ragioni del licenziamento Dicevo sempre sull'ordine dei lavori cercherò di essere rapido e relativamente contenuto nei tempi guardate, mi sono appuntato solo questi punti su questo foglio quindi li svilupperò ma tendenzialmente nell'arco di un quarto d'ora o poco più dovrei avere finito questa presentazione a questo punto ovviamente dove vi fossero richieste di schiarimenti o questioni siamo solo a disposizione e così come resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti della vicenda che dovessero passare da un approfondimento documentale tutte le carte oltre ad essere depositate presso i tribunali sono presso gli studi professionali e le possiamo verificare Allora, in questa sede, premetto questo cercherò di evitare tecnicismi per due motivi uno perché la sede dei tecnicismi sono i tribunali e non le conferenze stampa ma in secondo luogo perché credo che di tecnico e di processuale in questa vicenda e negli ultimi suoi sviluppi non vi sia molto mi interessa quindi piuttosto evidenziare ruoli, responsabilità, fatti che sono intervenuti Allora, partiamo dalla ricostruzione della vicenda che in realtà non può prescindere dalla situazione pregressa questi signori, questi nuovi lavoratori in varie vesti prima con la carovana parcheggiatori di Tervese no, è religioso sono complimentato sempre poi come cooperativa e poi lavorando presso Francigena sono stati adibiti a questo servizio per oltre vent'anni tutta la cittadinanza di Tervese sostanzialmente riconosce allora, un primo punto in tutti questi anni anche quando erano cooperativa non hanno mai percepito una lira di utile che la cooperativa non ha mai distribuito hanno percepito semplicemente degli stipendi da operario con il presidente della cooperativa e tutti gli altri e qui però una precisazione che è già un primo dato importante un po' meno di un operaio perché un operaio quando va in pensione percepisce un TFR un trattamento di fine rapporto e questi signori invece non lo percepiranno e perché? perché loro hanno rinunziato al TFR e lo hanno fatto per garantire degli investimenti sul sito di lavoro sugli impianti sui parcheggi cioè gli impianti di automazione che per anni e anche i servizi che sono certamente che sono presso il Sacrario sono stati pagati con i soldi del TFR di questi lavoratori poi con una scelta manageriale che io non mi posso permettere di sindacare evidentemente Francigeno una volta sull'entrata ha smantellato questi precedenti questi precedenti impianti che questo ha avuto evidentemente un costo questo sia un primo punto molto molto chiaro ecco un altro aspetto che deve essere in questa sede puntualizzato è che quando nel 2009 è intervenuta la transizione il suddentro di Francigena nella cooperativa autoservice nella gestione questi signori hanno ricevuto una nota di encomio da parte del dirigente comunale competente una nota che peraltro era gli atti dei rari giudizi e che ha evidenziato la piena e assoluta correttezza gestionale di tutta la vicenda perché purtroppo anche su questo molte contestazioni molte polemiche sono state fatte addirittura si è provato a proporre querele per falso il bilancio querele per appropriazione indebita e altre vicende che non vi sto a ripetere gli atti parlano di note di encomio 2009 su dentro di Francigena questi signori si rivolgono a me chiedendo di garantire il loro posto di lavoro perché sia l'amministrazione comunale sia Francigena si erano rifiutati e qui veramente avremmo un muro di gomma davanti di offrire qualunque soluzione bonaria a questa avvertenza che stava già montando e poi sulle transazioni proposte faremo un discorso alla fine e questo è un altro tema molto delicato per chi abbia vagamente si sia vagamente interessato alla questione i giudici si sono sempre pronunziati in tema di norme a tutela dei lavoratori sul trasferimento d'azienda la normativa di estrazione comunitaria non vi preoccupate non ve ne devo parlare il punto è che di questi tecnicismi i lavoratori ovviamente non sapevano nulla quando vennero da me quando vennero da me per chiedere una protezione dei loro diritti vennero con un altro punto e se voi sulla vostra nota di sintesi andate a vedere la terza pagina quella legato 1 che voi avete questo è il contratto queste tre paginette poi il contratto è più ponderoso ma queste tre paginette mi presentarono qui Rolando Cerconelli Domenico Comi e gli altri e gli altri lavoratori che cos'è questo? questo è un contratto è un atto pubblico amministrativo sottoscritto dal comune sottoscritto dai lavoratori all'epoca cooperativa autoservice rogato dal segretario generale del comune è un atto pubblico tendiamoci non è uno scattafaccio di segreteria all'articolo 6 di questo contratto il comune si era impegnato nero su bianco a garantire la continuità occupazionale di tutte e nove queste posizioni cioè il comune aveva detto non vi preoccupate adesso voi lavorate come cooperativa autoservice ma qualunque cosa succeda in seguito quindi un altro soggetto subentri la cooperativa dovesse fallire io vado in house lo gestisca direttamente come comune non ha importanza il vostro posto di lavoro voi non lo perdete e lo potete leggere chiaramente all'articolo 6 verrà inserita in relativi bandi di gara stiamo ipotizzando successive gestioni una clausola che preveda l'obbligo da parte della ditta giudicataria di assumere i soci laboratori questa si chiama clausola di protezione sociale è una clausola diffusissima si trova in centinaia di contratti di servizio vi posso dire è stata anche validata dalla corte costituzionale in occasione di un contenzioso pugliese adesso non sto ad annoiarvi su questo il comune ha rinnegato questo contratto si è rimangiato un impegno messo nero su bianco in realtà senza nessuna giustificazione perché anche in giudizio quando siamo andati in giudizio sono state eccepite vari profili di nullità per contrasto ai principi di concorrenzialità guardate veramente filosofia nel senso che ripeto si tratta di norme assolutamente e stabilmente presenti in tutti gli atti di questo genere un primo problema allora tutto questo contenzioso sorge perché il comune ancora oggi senza giustificazioni ha rinnegato un impegno che aveva assunto e quindi si è chiaro questo profilo che laddove Francigena dovesse vincere in Cassazione vince Francigena perde il comune qualcuno qui la situazione poi la dovrà rimediare come dire il problema fino adesso non si è posto e non si è posto banalmente perché dei avete i dati dei 36 giudizi che si sono conclusi i lavoratori hanno vinto 33 uno l'ha vinto Francigena e adesso voi mi direte perché evidentemente la logica degli eventi dovrebbe condurre a questo avvocato Cimino adesso lo metti anche tu nero subiano ecco vedi Francigena ha vinto un giudizio e proprio il giudizio come ci hanno detto rappresentanti politici e dirigenti dell'azienda partecipata è la decisione della corte d'appello che ha ribaltato le 20 30 50 non è importanza la sentenza di primo grado del primunale no non è così è vero che Francigena ha vinto un giudizio l'ha vinto due anni fa era una pronuncia interlocutoria che poi è stata cassata dallo stesso giudice che l'ha emanato quindi quell'uno sta a zero per intenderci due anni fa due anni fa e allora a questo punto è legittimo chiedersi che cosa è successo in corte d'appello pochi giorni fa e qui una piccola operazione verità la dobbiamo fare e la dobbiamo fare perché io non ho paura di usare un'espressione forte su questa vicenda è stata fatta disinformazione disinformazione allora voi ce l'avete qui la decisione della corte d'appello va bene è in allegato il terzo allegato a questa nota di sintesi come vedete vedete proprio l'ultima pagina sono due paginette francigena ha fatto un appello di 67 pagine la corte d'appello ha respinto alla corte d'appello per respingere in vittoria gliene sono bastate una e mezza BQM dichiara l'inammissibilità delle istanze condanna condanna le parole hanno un senso in questo paese e nei tribunali italiani condanna francigena srl in persona del presidente del consiglio di amministrazione legare rappresentante pro tempore a pagare la pena di euro 2250 che cos'è questa questa è l'ordinanza con cui si chiude una fase processuale la cosiddetta inibitoria o istanza sostensiva c'è una sentenza di primo grado la parte soccombente può chiedere alla corte d'appello una pronuncia urgente per sospendere gli effetti di quella sentenza bene la corte d'appello non si limita a dire che il ricorso di francigena è infondato o deve essere respinto lo dichiara del tutto inammissibile cioè vuol dire che non entra neanche nel mento della questione tanto l'azione non doveva nemmeno essere proposta e volete sapere perché perché la corte d'appello e guardate che so quello che dico perché la corte d'appello ha esattamente accolto la mia eccezione preliminare di ammissibilità formulata nero su bianco nella memoria difensiva che io ho depositato in corte d'appello la corte d'appello evidenzia una contraddittorietà interna al ragionamento di francigena cioè francigena si è presentato dalla corte e gli ha detto la corte guarda questa sentenza è del tutto ineseguibile però tu sospendimela la corte ha detto scusate sei ineseguibile perché mi stai chiedendo di sospenderla ciò che tu mi dici è intrinsecamente contraddittorio e infatti se voi andate a leggere dice rilevato che è la stessa parte istante a dedurre che la sentenza impugnata contiene unicamente statuzioni dichiarabili sentite adesso non vi sembri provocatorio però è una storiella che si racconta se uno vuole può far dire anche alla Bibbia che Dio non esiste vero? perché sulla Bibbia sta scritto lo stolto dice il Dio non esiste però adesso non credo che la Bibbia nevi l'esistenza di Dio allora che questa pronuncia dica Francigena dice che la sentenza di primo grado è ineseguibile non credo che voglia dire che la sentenza di primo grado sia ineseguibile e ciò che dice Francigena e facendo perno su quel ragionamento intrinsecamente autocontraddittorio contenuto nel provvedimento di parte istante del mio contraddittorio rigetta l'istante e condanna una pena non era condanna alle spese purtroppo questi 2250 euro non saranno restituiti ai lavoratori e tanto meno a me questa è una pena che va devoluta all'erario ed è un caso raro è molto raro che il codice di procedura preveda che a seguito di un'azione legale ci sia una sanzione pecuniaria vuol dire che veramente quel provvedimento non doveva neanche essere neanche essere e allora e allora qual è grazie perdonatemi ma l'assenza del microfono mi sboccia mi costringe a mantenere solitamente sono abituato a usare i microfono ecco veniamo allora siamo oltre metà dei punti da sviluppare ci siamo stiamo arrivando alla conclusione sulla secondo allegato che voi avete la sentenza del tribunale di Viterbo firmata dalla dottoressa Angela Daniani vedete il PQM PQM vuol dire per questi motivi vuol dire è una previazione affettuosa che noi avvocati utilizziamo per individuare il dispositivo che dice dichiara il diritto dichiara il diritto di Caciola Franco Caciola Giancarlo Ceccolendi Rolando i nomi li conoscete non ve li dico tutti di proseguire il rapporto di lavoro nei confronti della Franciglian SRL ai sensi dell'articolo 21-12 del Codinio Civile cioè i sensi delle norme sul trasferimento d'azienda i profili tecnici e per l'effetto dichiara l'obbligo della predetta Francigena ad effettuare tutti i relativi accantonamenti quindi retribuzione contribuzione e quant'altro allora qui non mi sembra che ci sia molto da interpretare posto che questa decisione dichiara l'obbligo dichiara il diritto è stata salvaguardata dalla Corte d'Appello che si è rifiutata di sospenderla non entrando neanche nel merito della vicenda quindi è questa la pronuncia che oggi fa Stato tra le parti non è ancora passata in giudicato c'è la Corte d'Appello c'è la Cassazione ma oggi fa Stato questa di là del fatto che non esiste nessuna differenza legale fra condanna e dichiara l'obbligo questo sia chiaro non esiste nessuna differenza in senso tecnico ma perché voi possiate capire siamo fortunati abbiamo un caso che è di rilevanza nazionale è successo pochi giorni fa ed è perfettamente sovrapponibile i lavoratori della Fiat di Pomigliano più o meno tutti hanno capito di che cosa stiamo parlando qual è il punto io non ho nessuno strumento legale o processuale per costringere qualcuno ad accettare nella propria azienda un lavoratore che egli non voglia ricevere che cosa immaginate che si possa andare con un ufficiale giudiziario e puntare una pistola alle spalle del manager del dirigente di un ente perché dia le mansioni gli incarichi e assegna i vari reparti i lavoratori non si può fare non esiste una forma di coazione diretta di una sentenza di reintegra per essere complessi per essere così artificiosi noi avvocati parliamo di obblighi di fare infungibili e perciò incoercibili che vuol dire che se il datore di lavoro non è lui che vuole dare le mansioni non è lui che vuole far rientrare il lavoratore nell'azienda nessuno lo può obbligare e allora si sa le sentenze restano lettera morta ovviamente no qual è lo strumento tramite il quale una sentenza di reintegra o di prosecuzione del rapporto come in questo caso può essere materialmente imposta al datore di lavoro esattamente come nel caso Comigliano la Fiat è costretta a pagare le retribuzioni non sta facendo lavorare i lavoratori ma sta pagando le retribuzioni la Fiat però è un'impresa privata sono soldi suoi questa non è un'impresa privata allora quello che succederà quello che è già successo è che sulla base della sentenza di primo grado saranno richiesti ed emessi decreti ingiuntivi vedremo se i giudici ci sceglieranno subito esecutivi o meno con i quali noi andremo a recuperare le retribuzioni mese per mese dovute e questo è già successo è già successo 18 volte con 18 procedimenti monitori avviati in precedenza sugli stessi presupposti di oggi concessi dal tribunale di Viterbo dopo che penso sia oramai molto chiara la posizione che voglio far valere voglio darvi alcuni numeri perché credo che sia importante per capire le dimensioni del vicende sono sulla nota di sintesi e ve li riferisco come li leggiamo insieme 56 giudizi 18 procedimenti monitorici val bene leggerli anche se può sembrare noioso 18 opposizioni a procedimenti ingiuntivi 9 appelli e altri 9 ne arriveranno 2 giudizi di merito 2 appelli sul merito 1 inibitoria 6 procedimenti caudelari di cui un settecento un primo reclamo 2 apporsioni una revoca un reclamo sul revoca 56 procedimenti giudiziari se non è accannimento questo di questi se ne sono chiusi 36 io ho già dato i numeri 33 li hanno vinti i lavoratori 1 e sta a 0 l'ha vinto francisena 295.000 euro anzi 295.473 e 90 centesimi di euro sono gli arretrati stipendiali per attività lavorative non prestate che francisena è stata condannata a versare di questi circa 200.000 euro sono stati già pagati in moneta sonante altri 100.000 euro speriamo tra breve attenzione a questi dobbiamo aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi 4% all'anno sono passati 3-4 anni fatevi conti di quante altre decine di migliaia di soli interessi di valutazione sono stati versati poi abbiamo le spese legali di soccombenza 30.000 euro che sono state rimborsate in tutto e in parte se non sbaglio ma sono già sul decreto ai lavoratori e un ultimo profilo che ha un po' da sorprendente il discorso IMS perché io su questo sono un anno e mezzo abbiamo qui il signor Pedro Selli che su questo è una spina nel fianco guardate è un anno e mezzo due anni che io dico a francigena e ai suoi referenti guardate che su questa faccenda dell'IMS andate a sbattere perché avete onesso i versamenti perché li avete versati in ritardo vi sanzoneranno vi arriveranno gli avvisi anche qui nessuno se ne ha dato a vedere poi ovviamente gli avvisi sono arrivati 79.436 euro di si in parte sanzioni in parte sorte capitale adesso i dati precisi guardrebbero questi all'IMS ma i numeri sono questi verbali di accertamento notificati presso la sede di francigena da parte dell'istituto nazionale di previdenza sociale per circa 80.000 euro tutto questo chiaramente a carico dei cittadini di tervesi perché tutto questo è venuto a fronte di prestazioni lavorative non rese cioè questi signori stavano a casa licenziati senza prosecuzione del rapporto ma poi francigena ha dovuto saldare e perché? perché nonostante ci fossero le ordinanze esecutive del giudice Passamonti del collegio e quant'altro francigena con ordini del giudice esecutivi si rifiutava di riassumere poi li abbiamo convinti a riassumere di solo grazie ai decreti ingiuntivi quando sono arrivati i decreti ingiuntivi poi hanno mutato approccio ancora un profilo anche quando sono stati riassunti sono stati sottopagati gli è stata negata loro l'anzianità vabbè ma tanto tutto questo è stato già chiesto ai giudici ma questo è un dato però di rilevanza sono stati lasciati per lungo periodo senza mansione in particolare le signore e questo benché ci fossero altri due parcheggi quelli voi lo sapete di Viale Raniero Capocci e di Porta Fiorentina che venivano trasformati in fasce blu e le delibere comunali peccato però prevedevano che fossero gestiti in struttura quindi con impianti di automazione e col personale e guardate che fa una certa differenza perché se c'è del personale quello è un servizio che rendo al pubblico il personale si preoccupa di assistere l'automobilista di sbrigare la pratica di abbonamento venga un automobilista invalido che ha bisogno di un aiuto eccetera la fascia blu sapete che cos'è il parcometro e noi sappiamo anche come funzionano i parcometri a Viterbo se metti 10 centesimi di più e non raggiungi lo scatto orario semplicemente se li mangia questo è un altro discorso quindi un servizio è stato trasformato in una tassa mentre c'erano 4 lavoratori che potevano essere impiegati non credo che fossero semplicemente libere strategie imprenditoriali di francigena visto che almeno all'inizio c'erano dei libere di consiglio che dicevano che dicevano ho appena altri due punti e poi veramente finisco perché mi rendo conto che mi sono preso più del tempo che mi ero riservato problema transazioni sia chiaro transazioni non ce ne sono mai state presentate o quantomeno mai transazioni che avessero una base di serietà e mi spiego noi le transazioni le abbiamo fatte le abbiamo presentate le abbiamo depositate a verbale d'udienza con sacrifici importanti si rinunziava il regresso si rinunziava tutto il regresso tutto il regresso e tutto il risarcimento del danno morale qui c'è una persona che hanno dovuto sconvolgere le proprie abitudini familiari stare un anno e mezzo senza lavoro non è una cosa piacevole voglio dire poi abbiamo fatto il tentativo di conciliazione davanti alla direzione provinciale del lavoro al quale ovviamente sempre lì muro di gomma poi abbiamo reiterato la nostra proposta giugno 2011 ecco proposta del comune la proposta del comune concepiva un reinquadramento dei signori nel TPL nel trasporto pubblico locale questo voleva dire che dovevano perseguire un percorso di riqualificazione professionale come autisti di autobus sì peccato che per ragioni di età per gli acciacchi della vecchiaia non erano nelle condizioni fisiche di ottenere una licenza forse una licenza d'autista e gli altri nove di là dal fatto che la patente avrebbero poi dovuto sopportarne le spese ma laddove non avessero all'esito del percorso conseguito l'abilitazione d'autista avrebbero evidentemente rischiato il licenziamento nuovamente e questa volta senza avere neanche la possibilità di impugnarlo in questo ultimo punto e qui chiudo chiudo veramente questa è una vicenda che ha evidenti risvolti legali processuali e voglio dire abbiamo condotto questa battaglia e la compieghiamo a scondurre in tutte le sedie o piottune al tribunale di Viterbo presso la corte d'appello di Roma e ovunque laddove sia necessario voglio dire oramai questa è una come dire una vicenda professionale che seguo da tanto tempo e continuerò ahimè inevitabilmente a seguire però forse non è solo una questione legale processuale forse qui la vicenda chiama in causa anche qualcos'altro forse anche la responsabilità della politica dico quella con la più maiuscola e non responsabilità nel senso di buttare le colpe su qualche d'uno lungi da me o da anni una consulenza alla Camera dei Deputati so che la politica sa essere un mestiere straordinario no no faccio un discorso diverso una presa di consapevolezza del proprio ruolo e sì perché questa decisione di licenziare non è stata assunta da un organo tecnico beh un organo tecnico che essendo una società partecipata soggetto al controllo analogo dovrebbe avere dei margini gestionali limitatissimi meramente operativi non certo assumere decisioni cruciali per la vita della struttura aziendale perché stiamo parlando di nuovi lavoratori quindi un peso significativo sul complessivo organigramma aziendale ma di là da questo l'impatto sociale politico con la P maiuscola o minuscola dite voi della licenza allora se questo è un'impresa soggetta a controllo analogo forse le decisioni in forma di atti di indirizzo su vicende così complesse e delicate avrebbero dovuto essere assunte in altre sete nelle sete proprie a seguito del dibattito pubblico in consiglio in commissione laddove fosse ma mi sarei atteso un dibattito pubblico prima di sbattere fuori dalla porta anzi l'Italia l'ha chiusa questi signori si sono presentati a lavorare quel giorno nessuno gli aveva detto niente hanno trovato la porta chiusa qui siamo vabbè sono forme prossime al licenziamento traggioso insomma poi questo lo vedremo ma voglio dire ribadisco il punto credo che ci sia una chiamata dei competenti organi consigliari sul punto a far valere gli strumenti di indirizzo in sede di controllo analogo e veramente su questo giusto bene sono veramente molto grato ripeto per la vostra presenza qui sono naturalmente a disposizione sì mi sono rubato più tempo di quello che avevo premesso di chiedere assolutamente sono pronto a rispondere a ogni domanda la voglia di dormire anche qui è io